Grazie a tutti per essere qui in questa conferenza stampa. Io faccio un po' il presentatore, nel senso che qui nel tavolo con me c'è chiaramente il comandante della Polizia Municipale e Polizia Locale, l'Avvocato Gianni Galdenzi che sovrintende non solo al corpo della Polizia Locale di Pesaro ma anche a quello che è oggi il servizio che recupera anche i comuni che si stanno avvicinando alla creazione dell'unione dei comuni che insieme a Pesaro cercheranno di dare delle risposte in termini di servizi più stringenti, più efficaci per alcuni aspetti a tutto un territorio che è sovracomunale e poi insieme al comandante Galdenzi ho il capitano se non mi sbaglio Marco De Biaggi che diciamo è più dentro al tema della conferenza stampa di oggi e che un po' sovrintende al progetto Whatsapp per il comando. E poi il Presidente della Commissione diciamo legata alla sicurezza e alla Polizia Locale, non c'è solo quella delega, sono tantissime le deleghe a cui la Commissione è chiamata a distruire le pratiche, il Presidente Marco Perugini. Ho chiesto a Marco di essere presente qui con me perché questo progetto, il progetto Whatsapp, è un progetto che nasce ben prima che io sia arrivato ad incarnare il ruolo di assessore. A me non piace prendermi i meriti che non ho e quindi ho detto Marco tu siccome hai lavorato alacremente su questo progetto e hai coinvolto la tua commissione e hai proposto di fatto questo servizio, questa iniziativa insieme al comando della Polizia Municipale, tu devi venire e ci devi raccontare anche un po' quegli elementi che hanno portato alla realizzazione di questo progetto perché ritengo che appunto sia giusto così. Io sono assessore da due mesi, raccolgo in un campo dove altri hanno lavorato e hanno seminato per cui mi sembrava giusto per correttezza coinvolgere tutti coloro che questo progetto lo hanno avviato per primi. Io l'unica cosa che posso dire è che sapete che Matteo Ricci ha apostrofato il mio assessorato con il termine al dialogo, se io sono l'assessore al dialogo e questo è uno di quei progetti che mettono in dialogo i cittadini con l'amministrazione, nel caso specifico con la Polizia Locale e credo che sia un modo in più grazie alle tecnologie di cui praticamente la grande maggioranza dei cittadini sono dotati perché con uno smartphone e con l'applicazione di WhatsApp praticamente ci si può mettere tutti, ci si può sentire più vicini e quindi questa proposta che oggi viene avanzata io la leggo non solo dal punto di vista di una maggiore capacità di sicurezza, di interazione con le forze dell'ordine tra i cittadini e la Polizia Locale per garantire una maggiore sicurezza, vivibilità della città ma soprattutto credo che sia un progetto che aiuti e stimoli ad una maggiore collaborazione, a un dialogo appunto tra i cittadini e le istituzioni. La pubblica amministrazione è chiamata oggi a essere al passo con i tempi, se i tempi, quindi se la società dà degli nuovi strumenti per poter in qualche modo dialogare, confrontarsi col cittadino, la pubblica amministrazione si deve avvelere di questi strumenti. WhatsApp naturalmente è uno dei tanti strumenti, è uno dei tanti modi con i quali i cittadini possono in qualche modo dialogare e segnalare dei comportamenti al comando di Polizia Locale oltre a quelli che sono poi gli strumenti più classici, la classica segnalazione, l'e-mail, le esposte e tutto quanto. La Polizia Municipale, sempre da un punto di vista per venire incontro all'esigenza di cittadino, ha un proprio portale, in questo portale riceve tutte le informazioni e può anche interagire direttamente perché tramesso questo portale si possono anche compilare domande, istanze, la pubblica amministrazione e così via. Questo è uno strumento in più, è uno strumento che è utilizzato già da un po' di tempo presso altri comandi con, dico la verità, alterne fortune. È evidente che se diventa uno strumento abusato da parte del cittadino e cioè se tutti cominciano a segnalare qualsiasi problematica, è evidente che la pubblica amministrazione non riesce a dare delle risposte concrete. Se invece viene utilizzato in maniera selezionata per quelli che sono i comportamenti che creano maggiore disvalore sociale, quindi che in qualche modo sono più riprovevoli rispetto ai comportamenti normali, mi riferisco in questo caso per esempio al discorso della sosta nei spazi degli invalidi, nella sosta sui marciapiedi, cioè ogni qualvolta in qualche modo viene penalizzato un utente debole, ecco in questi casi ci dà la possibilità di intervenire in maniera più tempestiva e quindi anche in maniera più efficace. Questo è l'obiettivo principale. Tra l'altro oramai la pubblica amministrazione e noi in particolare utilizziamo Whatsapp da tempo, non per le comunicazioni esterne ma per le comunicazioni interne. Quindi oggi la tecnologia ci offre questo e noi cerchiamo in qualche modo di utilizzarla. Non escluso che poi domani altri strumenti ancora più efficaci, ancora più incisivi, possono essere utilizzati perché come tutti sapete si evolve continuamente. È stato pubblicato quindi sul portale della Polizia Municipale del Comune di Pesaro all'indirizzo www.poliziamunicipalepesaro.it tra i numeri di telefono anche un canale per la messaggistica tramite Whatsapp. Il numero è 337 15 82 545. Come anticipato dal mio dirigente dovrà essere utilizzato in maniera selettiva per segnalare abitudini e comportamenti scorretti ricorrenti nei confronti delle fasce deboli. Abbiamo citato sosta sul marciapiede, spazi invalidi, sosta di fronte alle rampe di accesso dei marciapiedi, comportamenti scorretti nei parchi pubblici, sulle piste pedonali e ciclabili e perché ricorrenti? Nel senso di segnalazioni che valga la pena attenzionare per organizzare servizi mirati. Quindi laddove ci dovesse sfuggire che in una particolare ora o fascia oraria, in una particolare zona ci sono persone che abusano e soprattutto che usano comportamenti disdicevoli per la società civile noi saremo presenti. Il canale Whatsapp non andrà utilizzato per le segnalazioni urgenti. In questo caso è sempre meglio contattare un nostro operatore per avere un riscontro diretto. Le segnalazioni con Whatsapp verranno prese in carico dalla centrale operativa e smistate o ai coordinatori esterni o agli uffici che programmeranno i servizi. E una cosa importante da sapere è che non verrà data una risposta al messaggio. Li prenderemo tutti in carico e verranno valutati per essere gestiti nel migliore dei modi a seconda delle priorità di intervento. Una cosa importante è che essendo una chat multimediale è possibile anche associare fotografie, posizioni geografiche, quindi con delle mappe. Per cui anche laddove, immaginiamo il parco Miralfiore, ci vuole far notare che una certa zona va controllata con una mappa e una posizione GPS e riusciamo a essere più incisivi, a fare meno ricerche, ottimizzando i tempi. Il merito di questo progetto va detto, anche se dice di no, del consigliere Marco Perugini che è aperto verso le nuove tecnologie e appunto ritiene che il Comune di Pesaro debba essere attento ai cambiamenti e alle innovazioni. E quando ci ha proposto di prendere in carico per il Comune di Pesaro questo tipo di canale siamo stati contenti perché era una forma di comunicazione che già utilizzavamo internamente e quindi non avevamo grosse preoccupazioni se non quella di smistare un attimino il tipo di segnalazioni. Intanto buongiorno, inizio con i ringraziamenti perché è vero che l'assessore raccoglie il seminato ma il buon coltivatore sa anche raccogliere e questo mi fa molto onore a questa amministrazione soprattutto nell'ambito di questo nuovo assessorato che è l'assessorato al dialogo che dice cosa c'entra il dialogo con Whatsapp e la Polizia Municipale. Quello che dicevamo fino adesso perché la finalità di questo progetto è appunto quello di spingerci verso un senso di comunità ancora più maturo. Quando ormai mesi fa ho provato a proporre questa idea che poi non era assolutamente nuova ma abbiamo proposto un'applicazione, una declinazione diversa all'amministrazione e quindi al corpo di polizia municipale. Sapete che già in Italia stava accadendo che Whatsapp ha utilizzato per esempio il comune di Padova per segnalare il degrado urbano, in altri comuni per segnalare questioni che andavano al limite un po' dell'ordine pubblico. Questo ovviamente è scelta delle altre amministrazioni. Per quanto riguarda peso abbiamo voluto dare un valore aggiunto, ovvero provare ad accrescere il senso di comunità, il senso di coscienza e responsabilità dei nostri cittadini e soprattutto provare a dare una risposta perché è vero che se mi mandi la foto di una panchina rotta io probabilmente riesco a strutturare un processo per cui poi vado a riparare la panchina. Nel caso della Polizia Municipale i comportamenti scorretti verso le persone deboli e ovviamente i comportamenti disdicevoli vanno verso un senso di comunità che va ben oltre quella panchina o quella zona di degrado. C'è da dire anche questo, il Capitano De Biagi, il Comandante Galdenzi hanno accettato la sfida, loro hanno una grande attitudine sia per professionalità ma anche a livello personale, anche dal Capitano De Biagi per le nuove tecnologie social ma questo strumento viene già utilizzato dalla Polizia Municipale per le comunicazioni interne quindi anche la velocità e la funzionalità di questo strumento veniva già utilizzato e era già strutturato all'interno dei servizi della Polizia Municipale. Questo vi fa capire quanto sia anche più facile poi andare a strutturare un servizio verso l'esterno perché, vadate bene, io non sono uno di quelli che ritiene che la tecnologia debba entrare in ogni luogo per forza la tecnologia deve essere, a mio parere, soprattutto delle integrazioni a quelli che sono i processi che sono strutturati perché oggi abbiamo la possibilità di utilizzare questo servizio e segnalare appunto i comportamenti che vanno a penalizzare le persone deboli perché alla base c'è un processo quindi c'è una persona che vede la segnalazione, una persona che la prende in carico e ovviamente delle altre persone che la vanno ad eseguire o controllare quindi, a mio parere, questo deve passare. Non abbiamo messo WhatsApp alla Polizia Municipale abbiamo strutturato un nuovo processo per comunicare con le persone visto che questo strumento è in mano già a tutte le persone non ne abbiamo creato uno nuovo. La vera sfida è qui nel lancio un'altra è la prima con coraggio l'accolta alla Polizia Municipale la prossima deve essere sicuramente quella dell'Ufficio di Relazioni con il Pubblico cioè domani o già oggi dovrebbe, oltre agli strumenti già disponibili essere possibile comunicare con la pubblica amministrazione con WhatsApp, Telegram oppure altre forme veloci per contrastare il fenomeno dell'ammassamento all'interno degli uffici o le chiamate all'interno degli uffici quindi avere delle informazioni preliminari in maniera molto più veloce non usato a caso preliminari non penso sia utile passare delle pratiche amministrative via WhatsApp quindi penso sia utile sapere dov'è quell'ufficio e quando magari contattarlo quindi io spero e sono sicuro che questo servizio andrà benissimo e le persone avranno modo anche di relazionarsi in maniera diversa con il Corpo di Polizia Municipale e la Polizia Municipale avrà qualche migliaio di occhi in più soprattutto rispetto a quelle persone che hanno più bisogno di essere osservate grazie grazie a tutti